Amici di Sportale, ben ritrovati, siamo all'Expo Levante in compagnia del Presidente Gaetano Mesterigiano Fipe, ormai lo conoscete bene, ci vediamo spesso Presidente, stiamo facendo promozione per la pesistica olimpica e stiamo anche approfittando per, sono già partite le fasi regionali della Coppa Italia di stessione sul panca. Siamo molto contenti, perché siamo in un bel contesto, noi abbiamo risposto come facciamo di solito con entusiasmo a un invito che ci veniva dal Coniguglia, che a sua volta aveva ricevuto l'invito dalla fine del Levante, per rilanciare questa campionaria di primavera. Il calendario voleva che in questi giorni cadesse la Coppa Italia di stessione sul panca e quindi ci è sembrato bello portare questa manifestazione sportiva all'interno della fiera, abbiamo un bellissimo riscontro di pubblico, abbiamo 180 atleti partecipanti, abbiamo un bel rientro di immagine per la nostra federazione, come al solito supportati da Portale che fa da cassa di risonanza verso la nostra attività. Noi ci siamo innamorati del vostro sport, quindi difficilmente vi molleremo, così come collaboriamo con tutte le federazioni con voi e siete una delle prime ad affidarci comunque questo accordo che ci vede sempre partecipi e anche testimoni, testimoni anche di questa ottima vetrina che, come diceva lei Presidente, ci ha permesso di presentare la Paesistica Olimpica anche agli ospiti dell'Expo, perché ricordiamo che abbiamo avuto qui un pomeriggio la Crossfire di Bari di Tonio Nardella, ieri c'è stata Langiulli con Costantino Smurro e lunedì abbiamo le ospiti Marco Cutillo con la Paesistica Capurso. Ovviamente per una questione logistica penso che avete puntato a società del posto anche per evitare criticità legate a spostamenti, quindi c'è la possibilità di vedere all'opera proprio paesisti e agonisti e società sportive e quindi è anche uno dei motivi per cui oggi siete presenti qui. Ringrazio tantissimo le tre società che tu hai citato che sono prestate in giorni semifestivi o festivi per promuovere la nostra disciplina olimpica vincife, che è la Paesistica e l'hanno fatto con la loro solida generosità, noi come comitato siamo contentissimi del loro lavoro e del riscorso che stiamo avendo anche oggi, stiamo per esempio pubblicizzando molto i corsi di aggiornamento, i corsi di qualifica della nostra federazione e molte persone sono avvicinate al nostro stand che tende appunto informazioni sui corsi. Queste informazioni sono presenti anche sui canali social, quindi per chi volesse prenderne altre o capirne un po' di più ci sono comunque tutti i contatti per conoscere un po' meglio la vostra realtà e per avvicinarsi. Presidente la ringrazio, buon proseguimento. Grazie anche a voi, soprattutto grazie a tutto lo staffo tuo, Beppe, di Sportale, perché davvero il vostro contributo alla nostra causa è veramente indispensabile. È un grande piacere, un saluto a tutti. Grazie, buona giornata.